Dopo la mostra a Fevizzano della veduta del Monte Forato di Andrea Marcò, gli uffizi diffusi tornano nelle Alpi Apuane a Massa, al Castello Spina, con una mostra che indaga i rapporti tra Michelangelo e questi spazi straordinari, origini dei suoi marmi, spazi dove si trattenne anche per periodi estesi il genio e che li conobbe e ne traeva ripetutamente delle ispirazioni.